Era stato spacciato per semplice liquido lavavetri concentrato, in realtà era alcol denaturato destinato al mercato parallelo e sempre più esteso dei cieli igienizzanti, fenomeno esploso con la pandemia. L'ultima scoperta qualche giorno fa quando le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso hanno intercettato a Roncade un tir proveniente dalla Polonia e diretto sulla carta Roma in una ditta all'ingrosso di ricambi per autoveicoli, che si è poi scoperto essere intestata a un pluri pregiudicato per truffa e vasore pressoché totale. Il mezzo trasportava circa 30.000 litri di liquido che solo dopo attente analisi di laboratorio sono risultati essere alcol denaturato destinato a una realtà dell'Interland napoletano. I dubbi e le criticità emerse in prima fase nel corso delle attività di controllo sono poi state effettuate in esito, sono state confermate in esito ai successivi controlli speditivi di analisi chimiche del prodotto che hanno confermato la reale natura dello stesso, quindi alcol denaturato, destinato alla produzione clandestina, con probabilità nel territorio campano, di gel igienizzanti e prodotti di sanificazione. Il carico è stato sequestrato insieme al mezzo in vista della futura confisca, mentre l'autista e l'importatore sono stati denunciati per contrabbando di prodotti alcolici e irregolarità nella circolazione, contestazioni sempre più frequenti, un vero e proprio business che fa gola alla criminalità. Abbiamo notato che tra il 2019 e il 2020 il transito di adorti colati dalle tratte autostradali trevigiane è aumentato di circa il 40% e questo ulteriore dato è in aumento anche nel corso del primo semestre del 2021. Questo ci fa pensare e ci conferma che effettivamente è in questo momento uno dei principali business da parte delle consorterie criminali.